Duracell vi presenta Tiger diventa un'arma letale Tiger diventa Blast Fighter Italia 7, domani ore 20 e 30 Che bella mia Ehi, armati! Se tu mi mangi, come posso portarti nel paese delle mele? Prendi la parola magica! Il paese delle mele Guarda dove sono le mele più buone del mondo! Eccolo qui il paese delle mele Il Trentino! Guarda quante buone mele! La renetta della Val di Noni Polpa bianca e finissima La succosa Golden del Trentino E l'eccezionale Golden della Val di Nonna Ancora più profumata Mele dal Trentino Io me le mangio e tu Il bello di essere adulti E poter realizzare i sogni fatti da ragazzi Con Renault 21 Nevada Questo è possibile Perché dà tanto spazio per le avventure E tanta sicurezza in tecnologia e prestazioni Portami con te Nevada Renault 21 La scelta adulta Vile da pavimenti assorbe tutta Ma proprio tutta l'acqua Senza fatica Vile da pavimenti Un'idea così asciutta È solo vile da pavimenti Con il forno a microonde Philips E le ricette di Agostini Ho preparato un piatto Compra Philips In regalo un ricettario di Agostini Stamattina sono arrivata presto Chi? Lui? No! Ciao! Come sei elegante Ma hai seta? Seta purissima Al cento per cento Che modelli! Siete in vina di follia? Al contrario Siamo state alla Uppim Alla Uppim? Sì! Alla Uppim C'è una grande collezione in seta pura Trovi camicette, gonne, complete E con i prezzi Uppim Di camicette ne ho prese tre Ma hai sentito anche tu? Perché non lo sapevi? Uppim fa sempre notizie Vabbè Potevate dirmelo prima Prima? Passa alla Uppim Un vero campione Deve essere puro Sia nel corpo Che nello spirito Ma Jerry Gran maestro di arti marziali E altre specialità Nella mitica Chicago anni trenta Non vuole vivere proprio così Quel cinesino Ha parecchio stoffo mi pare Quello non fa pugni Ha un'altra tecnica Abbiamo puntato ogni speranza Per non parlare del denaro Sulle possibilità di Jerry Di vincere questo incontro nel Texas Con Jackie Chan Chi tocca il giallo muore Mercoledì 20 a 30 Su Italia 7 Chi vince la lotteria diventa miliardario Chi vince Replay diventa milionario Ma chi non vince la lotteria e non gioca Replay Replay Il gioco che ti rimette in gioco Vile da pavimenti Assorbe tutta Ma proprio tutta l'acqua Senza fatica Vile da pavimenti Un'idea così asciutta È solo vile da Con la primavera Arriva il coccio salva bontà Infine ceramica del mulino bianco Per racchiudere Tante fresche fragranze Puoi riceverlo con i biscotti Le fette biscottate I cracker e i grissini Oppure puoi avere la simpatica sveglia Del mulino bianco barella Mamme I nuovi lines per maschietti e femminucce Danno un asciutto mai visto Perché hanno sopra il fluff Uno strato speciale Tanti granellini come questo Che assorbono E trasformano le gocce in morbida gelatina Nuovi lines Nessun culetto al mondo è più asciutto Fantastico Gemini Il tuo antifurto elettronico Sicuro e deciso Gemini protegge Gemini blocca Gemini chiude Gemini apre Gemini alza Fanno la tasa Gemini Collezione primavera standard Per la donna prevale la seta pura A bottini floreali Una donna semplice Classica Elegante Per l'uomo l'abito è intero In pura lana vergine E l'impergnabile ovviamente Di taglio inglese Per i bambini un romantico Nei colori pastello Collezione primavera standard Si spende poco E si ritorna al classico Standa La casa degli italiani Come ti chiami? Francesca La Francesca La più fedele delle mie ammiratrici Le musiche di Nino D'Angelo Per raccontare un amore L'ammiratrice Italia 7 Giovedì ore 20 e 30 Gira 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 Scegli Rotowash Gira gira Anch'io ho scelto Rotowash Rotowash Con acqua ed ammoniaca O detersivo non spiumoso E lava mochetto E lava pavimenti Eh sì Rotowash Fa proprio quello che dice Rotowash È garanzia di sicurezza Perché è approvato Dal marchio di qualità Sei modelli Per tutte le esigenze Dall'appartamento Alla grande industria Gira 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 Scegli Rotowash Per una prova a domicilio Telefona a Rotowash Milano 46 96 182 Mondial Tende All'ombra Con fantasia Riparatevi dal sole Con sicurezza E eleganza E praticità Oltre a completare Con stile L'arredamento Di ogni balcone E terrazzo Mondial Tende Produce e installa Tende da sole Valorizzando i vostri negozi E condomini Con tessuti Confezionati Tempotest State all'ombra Con Mondial Tende A Milano In via Filippo Argelati 29 Qui in casa Qui in casa siamo un po' Allo stretto Mi sembra di stare In una capsula spaziale Vedo papà Che lotta Con lo sportello Del bagno Mamma Colpita dal pensile Aperto Ora sono prigionieri Degli armadi Basta con i nemici Dello spazio Aia Qui ci vuole Rotowood Rotowood è l'amico Dello spazio La serrandina E la sua forza La casa è più bella E diventa più grande Rotowood La conquista Dello spazio Avanguardia Via Le Piave 14 Pedrini Via Canonica 74 Milano Oggi I vostri soldi E la centrale mobili Valgono di più Primo Perché non versate Una lira d'acconto Secondo Perché inizierete A pagare Un anno dopo l'acquisto Avete capito benissimo Ho detto Un anno dopo l'acquisto Voi comprate oggi Inizierete a pagare Nel 1990 Vi aspetto personalmente Seravalle Scrivia Alla centrale mobili La centrale mobili Distribuzione diretta 20 minuti di auto Da Milano Uscita Seravalle Scrivia Forse è il nostro uomo Se è in gamba come credi Non sarà facile Avvicinarlo Senza che sospetti qualcosa Cerco un cacciatore di squali Uno qualunque Questa È la carcassa dell'aereo Che si trova A 50 metri di profondità I soldi Sono in una cassaforte Incastrata Tra i rottami Della coda Cento milioni Di dollari Non andare Stanotte almeno Non scendere in mare Ti prego Con Franco Nero Il cacciatore di squali Sabato 20 e 30 Su Italia 7 Dai va Ehi scusi Sedda Riparate Quando si diventa adulti Quando si trova il giusto equilibrio Tra passione e ragione E ci si scopre improvvisamente promossi Da padre e amico Renault 21 è così Un'auto in perfetto equilibrio Tra alte prestazioni E massima sicurezza Renault 21 La scelta adulta Frutta viva Zueg Più frutta Più vita C'è un dentifricio Che ha preso una strada efficace Per proteggere denti e gengive Si chiama Defend Complex E va a diritto al problema In bocca La placca batterica Dà problemi alle gengive Ma l'azione igienica Di Defend Complex E il tuo spazzolino Ti aiuta a mantenere gengive forti E a proteggere i denti dal tartaro Per denti e gengive È il benessere Defend Complex La forza delle gengive La vita dei denti La forza delle gengive La forza delle gengive La forza delle gengive